a no cerchiamo da fare un po' che è il tuo zia mi preoccupare non mi preoccupare la zia qua non ci si può dire e allora qua ecco ma non so, non so, non so non so, non so non so ecco ecco parla solo con il mio amore parla con quella bella parla con quella bella signora amministrazione va bene ecco 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 Avete gli stessi, perché io ti voglio perdere con il mio amore. 16 a voi. 16 a voi. 16 a voi. 20. Nadio, 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 dai. Minaglio, dai. Non puoi prendere il racciglio, mi fai la tua. Non puoi prendere i rancidi, mi fai la tua. Non puoi prendere i rancidi, mi fai la tua. Stai qui, da. La partita è fatta. Stai qui. Stai a me di ora, ma... No, ma 30 dopo, 30 senta da là. Ma 30 senti dai. E' lì. E' lì, lì, lì. E' 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 lì. Bella. E' lì. 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 E' la nostra famiglia. E' lì. E' lì. Grazie. 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 Dai. Dai, vuoi di quale motivo? Scusa. Che io volevo... Mi chiamate se vuoi ripassarsi su me. E va bene. Allora... Bravo, ragazzi. Bravo, sconcentrato, dai ho. Dai, la metti questa partita. Eh? Che le prene si mangia l'altro? è la carta e al 552 no, è il mio non si sa non si sa non si sa non ci può fare più non ci può fare più un'altra e sei un'altra Dario basta pulino basta 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 eh ma che ne fa voglia se tu parci guarda questo è il questo è il il domani si risponde non me lo voglio non me lo voglio non me lo voglio non me lo voglio c'è il compagno porco Dio oh Giosi scusa oh Giosi Giosi a diavolo a diavolo a diavolo a diavolo troppa per cui 2 pennete 2 pennette Grazie. Quattro cento. Grazie. 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 Grazie.